Animalisti pronti alla battaglia legale dopo il decreto firmato dal presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per abbattere due lupi. Secondo il provvedimento, entrambi i mammiferi inseriti all'interno di un branco sono accusati di avere sbranato 16 bovini e due asini vicino a Malga Boldera. Proprio per questo Maurizio Fugatti, che da mesi chiede l'eliminazione dell'orsa JJ4, considerata responsabile della morte del runner Andrea Papi, ha ordinato la prima storica esecuzione dei lupi in Italia. A dare l'ok all'abbattimento dei grandi carnivori è stato anche l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, un provvedimento che però ha scatenato l'ira degli ambientalisti. Valutiamo azioni legali, ha scritto in una nota all'Organizzazione Internazionale Protezione Animali.